E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crazy Boy Oggi siamo tornati su Minecraft Faremo il giocatore simbolo Qual era questo? Andiamo a cominciare Allora, in questo video Metterò tre Obiettivi Diciamo Il primo sarà Migliorare la casa Cioè, mettere pavimento Migliorare la posizione delle finestre Eccetera Il secondo obiettivo Sarà fare un orto E il terzo obiettivo Trovare minerali Quindi cominciamo con Migliorare la casa Facciamo un orto Non c'è un orto Che ci sia Quella mare Allora, questa qui È perfetta Ok Direi che così lo deve bene Inoltre è stato in zona notte Quindi meglio Tornare a casa Ok 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 Allora Il colore dei blocchi è diverso Perfetto Perfetto Allora 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 Mettiamo le casse E La casa L'abbiamo Più o meno Migliorata Adesso Togliamo Questo blocco Qui E questo Questo Qui Mettiamo questo Qui Perfetto Perfetto Quattro Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Qui c'è uno scheletro... Sì! Dove sono finiti i giorni? C'è un'orgia qui dentro... Ma Dio! Ma perché? Il piccone di legno io conquisterò il mondo... No, non è vero... Con le palle di nuovo la conquistò il mondo... Dai, dai, dai... No! No, 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 no! Non hai capito, non hai... Eccola quella mia roba... Ok, qui c'è un altro... Non l'avevo visto... Se non si metto ancora al mondo... Per prendere la legna... Bene, perfetto! Poi... Andiamo lì... Invece dell'erba... Cerchiamo... Questi sono... E... Cutiamo... 5... 6... 2... 3... 4... 5... 6... Perfetto! Ok... Adesso, dato che abbiamo un paio di ossa... Direi di metterle qua e fare la pagina... Ok, quindi adesso questo... 2... 3... 4... 1... 2... 3... Perfetto! E... Basta! Ok! Però, dato che io... Voglio fare così... Ok... Ok... Sì, ascolta! Ah, ma... Sì, come mi piace! No! No, ma dai! Ma che trallata è... È schifo! Non si vuole fare un ghiaccio, dai! Adesso! Me ne servono? Eh... Perfetto! Me ne servono? Ok! Sì! 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 E... Una miniera! Ok! Il carbone è sempre utile! Non abbiamo mai abbastanza di carbone, quindi... Prendiamolo sempre! Ok! Quindi... L'orto ancora non è finito del tutto perché si ricrea il ghiaccio... Io non mi ricordavo questa cosa... E quindi bisogna rifarlo! Si può dire che... I minerali li abbiamo trovati! Abbiamo questo qui... E mettiamolo in una pasta! Ok! Poi! Guarda! Una! Sì! 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 Ok! Posso dire che cosa... Questo non so cosa crescerà... Potrebbe anche venire fuori di sottraere! Ok! Per i feri ci sono sicuramente... Perfetto! Adesso facciamoci un secchio... Ok! E facciamo una fonte d'acqua infinita! Allora... Se mi ricordo bene... Bisogna fare... Questo... Dovrebbe essere così... Così... E metto uno qua... Perfetto! Così... E metto uno qua... E poi... E poi... Questo... Ecco! Perfetto! Quindi... Si riforma... No! Ghiaccio! Che palle! Ah! Ma si metto le torci... Eh! 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 Quindi... Mettiamo le torci... La fonte d'acqua infinita... L'ho fatta... Per un pene... Però... Sempre una roba... Un po' da servire... Ma no! Ma no! Ma no! Ma no! Non mi salire sopra! Non mi salire... Non mi salirei! Non mi salirei... Che piaccio... Che sei fuori.. Ma... Che ce l'hai? no no perché ti sei accorto di me no dai dai che tale ma ti levi un pazzino tutti i zumi oh un ferro però qui c'è ah già perché stavo in crisi di fame quindi ok dobbiamo fare l'orto quindi facciamo questo orto no 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 torna da dove sei venuto perché perché ok no no perché il ghiaccio dai cristo non ci posso credere levati vai via levati levati ti mi arriva male no giusti giusti però il grano adesso anche qui ti metti qui torcia e cosa si può fare così e poi mettiamo questo qui sopra ok 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 tre cose li mettiamo e tu l'orto l'abbiamo fatto i cose li abbiamo fatti poi abbiamo messo gli alberi quindi un'altra parte di orto poi la casa l'abbiamo migliorato tra virgolette abbiamo messo apposta un po di finestra e abbiamo messo un fiore e abbiamo migliato il pavimento e abbiamo trovato ferro ma perché torce a casa? vabbè servono quanto faccio ne ho trovato otto dieci undici di ferro ne ho trovato uno da uno dobbiamo comunque ferro e quindi direi che i nostri obiettivi li abbiamo fatti e abbiamo finito quel video quindi se il video è stato di vostro gradimento mettete un mi piace e ricordatevi che a 100 100 facciamo 100 mi piace farò la serie la serie horror se è stato di vostro gradimento il dito il dito il dito se è stato di vostro gradimento mettete un mi piace col dito e inoltre commentate quello che volete iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti siete cari di tutto il giorno ciao grazie